Noi sappiamo quello che dobbiamo dire, è importante. È giornata, siamo sempre noi, Marta e Lucia. Ciao! Quello è l'aperitivo anoressia e bulimia. Solo anoressia. Volevamo scusarci perché ci siamo resse conto che non abbiamo avuto tatto. E prima siamo sempre. Abbiamo insensibili. Abbiamo esagerato. Abbiamo esagerato con le taglie, con la lontananza, con i posti, con un po' matrimoni qui. E qua siamo toccato. No. Tutto un po' di Michele. Se fa questo l'angolo, no. Niente, volevamo dire che noi... Burino! E qui non capisco. E che cosa è? C'è il burino. E di che cu? Attenzione. Il burino. C'è il burino. Ma chi è il burino? Un po' delle umbe di ricostruzione. Ah, ok, sì. E quindi questo... Comunque volevamo dire anche... E non ce n'è fatto un cazzo di chi è moro, occhio verde, speranza... Perché io sono Lucia. E io sono Marta, gioiellina vivere. E qui, quindi... E il nome è niente. E... Volevamo sempre scusarci, se non si è capito. Sì. Perché questo era... Era... Questo era un video... Volevamo farvi capire. Insomma. Volevamo farvi capire. No, siamo vicini alle persone che hanno bisogno. Che non lo dicono, però non lo negano nemmeno. E quindi di conseguenza siamo molto vicine anche a tutti quelli che preparano aperitivoni. E soprattutto stiamo vicine a quelle che... Che... Che si vengono... Che sono proprio rovinate. Perché hanno 33 anni qui. E si vengono... Vedrai. Non credo. Non va bene. Un coetaneo. So che è difficile la tua età ormai. Però cazzo, non scendere così in basso. Capito? Ma come in basso? Ma come in basso? In basso? E poi, voglio dire... No, no, no. No, no, no. No, che lo mettiamo? Togliamo il bip? C'è lo mettiamo? Bip, sì. C'è no. Bip, bip, bip. E poi, una cosa importante è... Avere Jimmy come amico. Per regalarti dei giri gratis. C'è lo tolato, Jimmy non mi regala più nemmeno niente. Questa è la sorta di... Non siamo più compari. Comunque, volevo dirti che siete una coppia meravigliosa, bellissima, micidiale. Lo penso anche io. Farete grandi affari, soprattutto con i figli, che dovrete un po' adottarla a distanza, perché non so. E quindi... Trovo una ballatina e un altro. Eh, direi. Però è l'importanza di avere un piccolo appunto. Non è questione di durata di due minuti. Abbiamo un po' il sopravvallo della situazione. Nemmeno, è bella, non vai manco mezzanina. Ma a chi lo stiamo dicendo? A Legnameria? A Legnameria, un po', sì. Legnameria. Questo non andrà né su Facebook né su YouTube, altrimenti mi dangano a me. Ma perché abbiamo fatto nomi? Siamo a Marte e Lucio. Ciao. Au revoir. Stoppa un po'. Ană-ra amように... E... An ora. Di parec.